Il Siracusa travolge il Modiga e resta in testa la classifica. Un Siracusa a quell'entrata in campo ieri consapevole di non poter più sbagliare perché ormai da qui alla fine del campionato sarà una lotta punto a punto con Megara Augusto e Pozzallo. Eppure le premesse non erano delle più incoraggianti, con un Modiga trovandosi in vantaggio con Vicari già dopo il primo quarto d'ora di gioco per il solito svarione difensivo. Ma stavolta gli azzurri non si disunivano, ma anzi, come punti nell'orgoglio, aumentavano sempre più i giri del motore fino a sovrastare tecnicamente e tatticamente il rosso-blu. Dal diciassettesimo in poi in campo esisteva solo il Siracusa che poco alla volta aggiustava la mira dei propri attaccanti e dopo una rete annullata dall'arbitro per fuorigioco trovava quasi subito il gol del pareggio con uno splendido tiro da fuori aria di Miraglia al ventunesimo. Gli azzurri non paghi del risultato cercavano ancora con una frenesia a tratti travolgente la via della rete che raggiungevano per altre tre volte nel quarto d'ora finale della prima frazione di gioco prima con un gol d'astuzia di Alfieri direttamente sul calcio d'angolo subito dopo con Giannaula servito da un assist millimetrico di Miraglia e infine ancora con Giannaula che firmava il gol del 4-1 e la sua doppietta personale. Il secondo tempo in pratica non aveva più storia col Modica che tentava timidamente di ridurre lo svantaggio e col Siracusa che con le sue ripartenze si rendeva ancora pericoloso. A mezz'ora della fine l'allenatore siracusano Scifo lasciava spazio e gloria ai giovani riculti Pandolfo e Timpono i quali ripagavano la fiducia riposta in loro dal tecnico con altrettante reti di pregevole fattura. A pochi minuti dalla fine Chinna su deviazione di un difensore azzurro fissava il risultato finale sul 6-2. Finiva così una partita iniziata maluccio dalla formazione adusea ma terminata in un crescendo che spazza via qualunque eventuale malumore legato all'eliminazione della Coppa Italia di mercoledì scorso. Gli azzurri mantengono la prima posizione e dopo i giusti festeggiamenti inizieranno a proiettarsi già mentalmente alla prossima insidiosa partita contro lo Sporting Eubea. Ultima trasferta su un campo interrabattuta di conseguenza da affrontare con le devute cautele e accortesse.